Comunque, la bellezza da sempre ha ispirato l'arte, questo è sicuramente vero, da sempre arte e bellezza vivono insieme, convivono, si nutrono l'uno dell'altro e noi abbiamo incontrato un ritrattista, vediamo. Sono Albert Edwin Flury e nella vita sono un artista pittore, mi sono specializzato nel ritratto, quindi il ritratto ad olio, olio su tela. Il mio è un ritratto che trae origine dall'ispirazione settecentesca e ottocentesca, tendo a portare quello stile, quell'interpretazione della bellezza tipica di quei secoli in maniera però attuale. La bellezza è uno di quei soggetti sui quali si sono scritti fiumi di trattati e fiumi di interpretazioni. Io chiaramente mi ricollego a quella che era la bellezza classica, già a partire ad esempio dall'epoca greco-romana si sapeva che il viso doveva essere diviso in tre parti, quindi l'altezza del naso doveva corrispondere a quella della fronte e dalle narici alla punta del mento. Come ho fatto per il ritratto dell'imperatrice d'Austria, Elisabetta, nota come Sissi, in cui ho proprio cercato di trasmettere quella che era la sua bellezza. Questa imperatrice fece dell'estetica quasi una ragione di vita. Donne bellissime, però indubbiamente nei secoli scorsi la pittura era un po' la bussola di riferimento per la bellezza della donna, soprattutto perché erano quasi tutte donne, le persone ritratte, parlando chiaramente dei ritratti. Oggi è un po' in affanno rispetto alla televisione, al cinema, alla moda stessa di cui abbiamo parlato prima. Ecco, la domanda che rivolgiamo al pittore che abbiamo appena visto nel filmato, che è Albert Edwin Flori, che è in collegamento dal nostro studio di Milano. Benvenuto al Formato Famiglia. Benvenuto. Grazie, grazie a voi dell'invito. Allora, intanto questa domanda, siete un po' in affanno adesso, insomma, o siete voi che dovete correre dietro, cioè sono cambiati i canoni di bellezza. Io mi ricordo dei quadri, alcuni ne abbiamo visti, altri ne ricordo nei vari musei che ho visitato, cioè donne bellissime, però diciamolo chiaramente, piuttosto in carne. Adesso invece i canoni televisivi, cinematografici, ma anche della moda stessa, vanno da un'altra parte. Voi come siete messi? Cioè rispettate i vostri canoni o vi state adeguando a quello che gli altri mezzi impongono più che altro? Beh, bisogna adeguarsi un attimino a quello che è il cambiamento dei canoni nel tempo. Basti pensare ad esempio e confrontare un ritratto, che so, del 300 e 400 rispetto a quelli del 7-800. Già lì c'è da dire che è un cambiamento pazzesco proprio nell'estetica e nei canoni di riferimento. Naturalmente oggi ci dobbiamo rapportare a quelli che sono i canoni attuali, quindi sicuramente parlando di un discorso della figura femminile, c'è sicuramente un assottigliamento, poiché rispetto all'800, quindi in cui le dame dovevano sfoggiare questi fisici piuttosto rotondetti e paffutelli, oggi avviene esattamente l'opposto. Cioè la donna fa di tutto pur di rimanere snella e in forma. Io ho citato appunto nel video che avevate realizzato Sissi, proprio perché a differenza delle altre dame ottocentesche è una figura molto moderna, in quanto lei passava ore e ore proprio nella cura della sua bellezza, addirittura aveva fatto installare delle palestre in tutti i suoi palazzi reali, per cui palestre in cui ella si allenava proprio per mantenere una forma così snella e molto così in forma rispetto a quelle che erano invece i canoni dell'Ottocento, che volevano appunto una donna più paffuta e più in carne. Ecco, abbiamo visto, ma li rivedremo ancora, alcuni suoi ritratti. Pensando proprio alla pittura, alla sua pittura, lei riesce a trasmettere con la sua pittura solo una bellezza apparente o qualcosa in più? E se è vero, che cosa in più riesce a trasmettere? Cioè io penso, mi viene in mente per esempio al quadro più famoso, al ritratto più famoso, quello della Gioconda, che non è chiaramente bella, però è enormemente affascinante, misteriosa, insomma è sicuramente il quadro più bello al mondo. Ecco, come fa un pittore a trasmettere quel qualcosa in più, al di là della bellezza condivisa, esteriore? Allora, personalmente, ricollegandomi appunto anche al quadro che lei ha citato famosissimo della Gioconda di Leonardo, posso dirle che solo conoscendo i soggetti si può arrivare a un'intesa, tanto che le dirò che spesso con i miei commettenti arriviamo proprio a un discorso di amicizia, amicizia anche che poi dura nel tempo, perché io entro un po' a far parte della famiglia conoscendo negli aspetti del passato, del presente, e cerco proprio di conoscere le peculiarità di ciascun soggetto, vuoi l'occupazione, vuoi proprio le passioni che lo caratterizzano, spesso inserendole anche nel dipinto, per cui se c'è la passione di uno strumento musicale, piuttosto che mi viene in mente appunto, ecco, vedo la scrittrice vostra ospite, ecco, in tal caso si cerca proprio di portare fuori quelle caratteristiche che di primo acchitto la figura non ci può trasmettere, perché è chiaro che ciascuno di noi ha un volto, però dietro al volto c'è tutta un'esistenza, c'è tutto un vissuto proprio della persona, e spesso, come diceva giustamente la vostra ospite, è quasi più bello il mondo interiore che non quello di facciata, quello esterno. Ecco, nella scelta poi dei suoi modelli, no? Perché lei disegna su modelli veri, immagino, i volti. Certo. Ecco, che cosa la colpisce? Il complesso di un volto bello oppure un dettaglio, lei parte dal dettaglio del viso, il naso, gli occhi, la bocca, per poi dire sì, vabbè, questo volto mi interessa, e da loro lo ritraggo. Avviene questo proprio, alle volte si rimane colpiti da un dettaglio, che può essere lo sguardo. Ecco, a me colpisce molto lo sguardo, tant'è che quando inizia un ritratto, quasi sempre comincia appunto dagli occhi. Però possono essere vari, così, i dettagli che colpiscono di una persona. Ciascuno di noi, sicuramente nella sua vita, ha conosciuto, così, personaggi, persone, e di primo acchito coglie un qualche cosa che non ha potuto riscontrare in altri. E sono questi gli elementi che poi alla fine danno fascino proprio alla persona. Grazie a tutti. Grazie.